eccoci qua ragazzi ciao a tutti buonasera vedo che c'è già qualcuno collegato come sempre fatemi sapere se mi sentite se mi vedete se è tutto ok e qua i problemi tecnici sono sempre dietro l'angolo io ci provo a fare tutto per bene ma ogni tanto i software mi vanno contro fatemi sapere ragazzi i messaggi arrivano leggermente in ritardo però visto che siete già un po collegati mandatemi un cenno controllo audio oggi parleremo del futuro ancora cerchiamo di passare un'ora insieme guardando un po avanti quello che è la situazione italiana situazione europa mondo come sarà il running nel futuro stiamo leggendo tantissime cose perfetto ciao daniele ciao albert grazie quindi mi sentite bene non è né alto né basso confermate che è tutto ok perfetto oggi abbiamo un altro ospite eccezionale come sapete in questo canale esco a correre cerchiamo di parlare con persone che parlano running che conoscono il running e che possono insomma raccontarci e farci passare una bella ora insieme l'ospite speciale l'avete già visto dalla copertina se siete entrati da youtube daniele menarini co direttore di correre che adesso vi presento subito ciao daniele sei live simone buonasera e ben ritrovato e buonasera a tutti coloro che ci seguono come stai direi bene compatibilmente con ho imparato a premettere però faccio parte di quelli che non si devono lamentare dai dobbiamo dobbiamo farcela passare questo momento è certo ragazzi come sempre se avete domande ricordatevi di usare la live chat qualsiasi cosa che volete chiedere avremo assolutamente tempo per fare tutte le domande che volete fare a daniele o a me daniele come ho detto prima è condirettore di correre io l'ho conosciuto un po di tempo fa ormai è passato sei mesi si eravamo alla fine dell'anno scorso quando ci sei venuto a trovare qui in redazione con tanto di staff eravate un bel gruppo si c'era anche mio fratello e forse dopo si collega anche lui per un'intervista appunto per mi ha aiutato un pochettino a promuovere esco a correre avrete probabilmente letto l'articolo e correre è inutile dirlo è il magazine probabilmente più importante del running in italia adesso non so a livello di di tiratura ma sicuramente il mio preferito è quello dove si trovano tutte le informazioni su gare si parla di atletica di strada di maratone c'è veramente di tutto in italia sicuramente non ha non ha uguali ci vuoi raccontare qualcosa della rivista daniele hai già detto tutto quello che serve un tentativo di fare un po una sorta di territorio per tutte le forme di running io dico sempre che il running assomiglia un po la polinesia è uno stato distribuito in tante isole e forse come è normale ogni isola si sente a sé e il nostro è un po un tentativo di di tenerle tutte assieme perché siamo convinti che in ogni ambiente dal dall'ultra trail alla corsa per stare meglio ci sia qualcosa che può essere utile a chi è dell'altro ambiente e quindi c'è un po questo sforzo quando parlo di con le parolacce che si usano in senso tecnico nel mondo dell'editoria spiego che ci segue che nell'editoria si distinguono le pubblicazioni generaliste dalle pubblicazioni verticali questa brutta cosa che sembra che siamo tutti alpinisti per dire che siamo specializzati e allora ok correre un verticale però all'interno dei verticali un generalista perché cerca di mettere assieme appunto le diverse specializzazioni del running assolutamente e come dicevo ne parlavamo proprio due secondi fa chi segue scoccorre lo sa ho parlato con bartiasso che fa parte un po dell'altra sponda del dei magazine internazionali che parlano di running e voi siete un po quelli che stanno divulgando questo bellissimo sport in giro per il mondo voi ovviamente in italia lui lo faceva magari un pochettino più a via l'internazionale però senza di voi sicuramente l'atletica e running in generale avrebbe sicuramente un altro tipo di visibilità perché in televisione purtroppo se ne vede poco se ne vede poco e quel poco che si vede un po sbilanciato nel senso che poi si finisce per essere improvvisamente famosi quando meglio di me avrebbero potuto essere rappresentati altri bariasso come si diceva prima assieme a mb barfoot assieme a jeff galloway sono stati dei dei grandissimi runner che sono stati capaci di essere poi promotori di questa passione perché ognuno di loro è stato atleta in differenti specialità della pista della strada galloway che forse è l'autore del primo metodo per tutti per cominciare a correre è stato un grande maratoneta che ebbe anche la generosità durante i giochi prima dei giochi olimpici di monaco di decidere lui poteva andare all'olimpiadi con la squadra americana sia nei 10.000 sia nella maratona scelse di andare nei 10.000 in modo che un suo amico che era frank shorter potesse andare nella maratona caso strano come frank shorter ha vinto la medaglia d'oro ma questa è un'altra storia hanno insegnato molto a noi non ho problemi a dirlo si comprava in modo molto faticoso runner's world in quegli anni 70 80 per imparare come raccontare la corsa il nostro il nostro iasso il nostro galloway è orlando pizzolato che ho l'onore di avere come direttore responsabile orlando è un altro che ha saputo trasformare la sua grande carriera di eccesso barattoneta nell'essere proprio un grande divulgatore secondo me che è quello che ci vuole assolutamente anche parti asso tra l'altro parla parla di orlando con grandissima stima e ne ha parlato proprio anche nell'intervista dicendo appunto il test igliasso in qualche maniera è diventato famoso in italia un pochettino grazie a orlando pizzolato sì poi la raccontiamo tutta in italia è stato anche coniato un termine da un altro ottimo autore che è marri il quale su podistinetta ha coniato il termine iassate derivato proprio da bariasco per in qualche modo bollare le cose un po' troppo banali però nulla toglie alla come dire all'autorevolezza di bariasso è stato una ironia che è servita a sorridere un po' chiaro chiaro assolutamente io ovviamente non conoscevo tutto il tuo curriculum poi quando ci siamo scambiati le prime mail appunto per organizzare questa intervista sono andato un po' a spulciare la tua carriera mamma mia ma hai fatto veramente di tutto ho letto che hai partecipato comunque hai lavorato per diversi giochi olimpici da barcellona 92 a 30 96 sin nei 2000 atene 2004 la famosa atene che a noi ci ha portato tanta fortuna e poi anche tokyo insomma ne hai fatta di olimpiadi era un po' una situazione interessata nel senso che nelle diverse situazioni del lavoro quando capitava di poter partecipare a questi eventi onestamente facevo di tutto per esserci vengo dall'atletico ho cominciato a farla nel 1975 per cui non mi è parso vero quando la vita lavorativa mi ha dato rispetto e ripeto in diverse situazioni la possibilità di essere partecipe di questi eventi straordinari che ti segnano completamente perché quando torni da un'olimpiade che sono 20 25 giorni che lavori come tutti dalle 15 ore al giorno in su non sei più la stessa persona però sono cose indimenticabili e di tutte le olimpiadi qual è stata la tua preferita quella dove hai avuto non so le emozioni più forti la prima che è che è barcellona perché ero quando vedi le cose per la prima volta è lo sguardo del bambino e capitano delle cose molto emozionanti anche per anche al di fuori dell'atletica capitò di arrivare la prima sera e andare subito a cercare io ero un collaboratore dell'ufficio stampa per cui andai a cercare la mia struttura e mi dissero guarda ok stasera non succede niente ci vediamo domani mattina e con questo meraviglioso pass stampa mi ritrovai a entrare dove si giocava stati uniti tanzania di basket e tu sei molto giovane ma nel 1992 per la prima volta i grandi miti dell'nba parteciparono le olimpiadi fino all'edizione precedente erano le squadre universitarie che per carità avevano atleti fortissimi che poi si erano diventati protagonisti ma non erano quei miti il grande dream team debuttò per la prima volta nel 92 barcellona e io mi ritrovai di colpo da nell'arco di un'ora dal dall'aeroporto del montwich davanti a questi fenomeni che avevo cominciato a vedere da poco nelle cronache di dan peterson per cui quella sicuramente anche se non ha niente a che fare con rani resta un'emozione indimenticabile poi per carità con la tanzania giocarono no non è vero giocarono e avevano questo di bello che insegnarono a tanti il loro modo di rispettare gli avversari era dare sempre il 100 per cento per cui fai conto che la partita finiva a memoria con una differenza di 78 punti ma nel loro modo di interpretare lo sport non era umiliare l'avversario ma era rispettarlo cioè ti prendo in considerazione chiaro chiaro sì bellissimo e poi sempre per finire di introdurti per bene come come giustamente meriti e hai scritto anche tre libri è una vita di corsa che è la biografia di luciano aquarone che è un campione master è un campione master sì sì poi dopo ho scritto altri due libri e luciano è una storia molto bella la riassumo brevemente perché è meno noto di luciano è una persona che un po è il simbolo di dell'appassionato di corsa vecchia maniera ma ancora molto presente si tratta di un atleta ligure che aveva fatto atletica ai tempi della scuola poi fine della trasmissione aveva cominciato a lavorare dopo i 30 anni la sorella aveva cominciato a correre e lui quasi per fare da guardia del corpo si era rimesso a correre e aveva scoperto di essere ancora forte il problema che in quella anni a metà degli anni 60 oltre i 30 anni non potevi più essere atleta per cui non poteva che serarsi e quindi accompagnò questa sua passione con una grande battaglia legale alla fine della quale riuscì a ottenere una modifica del regolamento quindi la possibilità di essere di nuovo atleta morale della favola ha debuttato in nazionale che aveva appena compiuto 40 anni ed era il 1972 e ha sfiorato i giochi olimpici di monaco è stato il primo degli esclusi dai tre atleti che andarono a fare la maratona ai giochi olimpici di monaco tutto questo condito con una sua grande personalità mi ha indotto a raccontare un po tutti questa storia bella storia assolutamente da considerare tra l'altro scusami simone ma per i nostri maniaci dei tempi luciano quarone alcuni record ancora imbattuti a 60 anni ha corso al maratona in due ore 38 e a 75 anni in tre ore 15 mi fermo ci metterei la firma per fare mica male alla mia età e quello che ha fatto lui a 75 anni non sono capace lo spettacolo e poi abbiamo la corsa non finisce mai che invece in questo caso è il mitico pietro mennea quindi qua si sarebbe da fare la trasmissione a parte diciamo semplicemente che per me è stato una un'altra di quelle emozioni che raccontavo prima perché praticamente mi sono trovato di fronte il poster che avevo nella mia cameretta vent'anni prima e ho scoperto che lui ha continuato a fare l'atleta il titolo che gli avevo proposto io la corsa non non finisce mai dipende dall'impressione che ho avuto lavorando con lui in quell'estate del 2011 per questa sua autobiografia cioè il fatto che praticamente mennea in tutte le pagine della sua vita ha continuato ad allenarsi come si allenava ad atleta tant'è vero che ha conseguito quattro lauree è un era un purtroppo un avvocato fallimentarista che ha curato assieme alla moglie ad esempio la causa degli investitori italiani contro le man brother quindi era comunque uno come dire capace di sostenere cause anche impegnative sul piano del diritto internazionale ma quello che ti colpiva era che l'atteggiamento era lo stesso che aveva avuto quando si allenava quindi sempre costantemente a lavorare wow mica male anche questo storia interessantissima e poi titolo che mi incuriosisce molto inseguendo bolt anche questo scritto con con pietro mennea sì lì era è stata una proposta la casa editrice la tea dei tascabili editori associati particolare limina di riprodurre questa coppia scrivente che in qualche modo aveva funzionato con l'autobiografia e pietro ha accettato di mettersi in gioco praticamente ha deciso di affrontare in parallelo le due carriere la sua e quella del più grande velocista di tutti i tempi che in quel 2012 libro è finito poco prima della sua scomparsa avvenuta nel 2013 era in assoluto ancora nel pieno dell'attività e anche perché in qualche modo loro sono colleghi spieghiamo chi ci segue che mentre nei 100 metri il record del mondo è stato aggiornato abbastanza di frequente nei 200 è già accaduto di meno nell'arco di 50 anni sono quattro gli uomini che si sono impossessati del record del mondo e tommy smith poi pietro mennea poi michael jolson e poi jussain bolt e paradossalmente sono quattro atleti dalle caratteristiche fisiche molto molto diverse tra loro per cui viene un meno un po tutta quella teoria che diceva che il velocista è uno schema preciso non è vero è la bravura dell'allenatore di saper cucire un allenamento sartoriale e poi probabilmente dobbiamo ancora finire di capire cosa serve veramente per andare veloce sì 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 è vero infatti appunto come dicevi tu gli atleti sono totalmente diversi anche gli allenamenti negli anni sono cambiati totalmente soprattutto nel mondo della velocità sì sono veramente cambiati tanto a noi piacerebbe essere così veloci come loro però pazienza siamo siamo nati più più simili all'uomo da cui ci siamo evoluti da quel sapiens meraviglioso che correndo correndo a lungo ha scoperto che quella era la miglior strada per la sopravvivenza assolutamente e poi concludo parlando anche della web della della radio web radio che che avevi fondato non so se lavori ancora per anche per la radio comunque radio run 2014 2018 mi dicevi che è una radio appunto parla di ancora di corsa e si l'ho dovuta come dire fermare perché come già i tempi della mia vecchia radio una delle prime cose che ho guardato il tuo microfono perché mi resta questa grande passione ho voluto aggiornarmi per cui il modo migliore era quello di provare direttamente come funzionava una web radio cosa cosa serviva l'eterna partita con la siae tutto quello che caratterizza questo lavoro in italia e di nuovo come i tempi della radio tradizionale che avevo frequentato per più di 16 anni della mia vita mi sono reso conto che purtroppo ma è giusto che sia così per farla bene devi fare solo quello e io in questo momento per fortuna o purtroppo per il mio lavoro non ho questa possibilità di impegnarmi in modo professionale però sono stati quattro anni ricchi che mi hanno insegnato tante cose bello bello sì poi richiede richiede veramente tanto tempo organizzare sai anche tu cosa vuol dire assolutamente sì bene dai ci tenevo a introdurre a tutti i nostri amici un pochettino la tua carriera e chi sei soprattutto per chi non ti conosce ancora abbiamo già parecchie persone collegate ci stanno già facendo un po' i domande però prima di rispondere alle domande volevo un po' introdurre il tema di oggi che è quello appunto del futuro del running perché sto leggendo vedendo anche nelle varie notizie un po' quello che sta succedendo in italia tu sai bene e soprattutto chi mi segue da un po' sapete tutti che io abito in uk in gran bretagna e quale cose sono senz'altro diverse non voglio dire meglio o peggio perché perché si vedrà solo il tempo ci dirà chi sta facendo meglio tra i vari paesi con le varie regole però una cosa che mi preoccupa e mi sta rattristendo parecchio è vedere come in italia il runner sia un pochettino al capo espiatorio del problema covid-19 quasi come se fossimo noi gli untori o il problema proprio l'altro giorno ho letto una notizia di un uomo praticamente massacrato perché correva senza mascherina e che è veramente veramente triste così come persone multate per cifre astronomiche un elicottero che insegue un runner sulla spiaggia insomma in questi giorni se ne vedono veramente parecchie di situazioni strane diciamo strane per me che abito qua in uk dove io ho la fortuna dico la fortuna perché non sono per nulla preoccupato del correre fuori perché lo faccio con coscienza so esattamente il rischio che potrei correre ovviamente correndo in mezzo alla gente ma forse abbiamo anche la fortuna di una geografia un po' un po' migliore soprattutto come città a Londra che nonostante è una grandissima metropoli siamo circondati da parchi immensi io vado a correre dieci minuti da qua che praticamente c'è un parco saranno dieci chilometri di parco con neanche un'anima viva ovviamente vado come si chiama? eh Lloyds io sono al sud di Londra sono un po' fuori dal centro però anche in centro Londra è pieno c'è un parco dietro l'altro e ovviamente quindi corre in sicurezza per noi è abbastanza semplice poi capisco che magari a Milano i parchi sono un po' meno una città un po' più follata e diverso eh però io appunto la fortuna è che mi alzo alle sei e mezza ovviamente faccio i sacrifici perché vado a correre appena riesco eh all'orario sicuramente più scomodo ho ancora prima di far colazione però quantomeno riesco a allenarmi tutti i giorni riesco a mantenermi in forma e soprattutto ho la possibilità di non diventare pazzo all'opposto in Italia leggo di persone anche gli amici che ci seguono che invece si stanno rattristando iniziano ad avere anche problemi seri perché stare chiusi in casa per un po' crea dei problemi tu che ovviamente sei in Italia e che hai visto anche tu queste situazioni che parere ti sei fatto? eh il parere appunto devi come se questa fobia nei confronti dei il runner capo respiratorio che onestamente non mi aspettavo e poi spiegherò perché sia una conseguenza di quello che stavi dicendo tu cioè dell'esasperazione delle persone io spero di non farla facile ma ho fiducia nel fatto che quando si potrà piano piano tornare ad una mobilità normale che non sarà ancora una vita normale questi toni si smorzeranno molto ehm il primo problema è nella nostra categoria la primissima parte dell'esplosione dell'epidemia è stata caratterizzata da una televisione allarmistica anche nei telegiornali eh le persone sedentari e le persone che non conoscono cosa vuol dire correre eh non hanno capito la necessità di chi correva e hanno tradotto il vedere le persone che andavano a correre in una forma di menefreghismo la faccio molto brutale ma è dovuto al fatto che loro non hanno dentro di sé la coscienza del di quanto intima sia la corsa nella vita delle persone che la praticano per cui è diventato un po' dopo di a un certo punto si è scatenato una una sorta di emulazione psicologica ho visto che è stato trattato male un atleta un corridore lo faccio anch'io eh dopodiché e un po' all'italiana c'è anche una piccola componente di corridori improvvisati che hanno detto vabbè si può andare a correre aspetta che faccio finta di essere un runner le famose tute in triacetato che non sono come dire criminali ma sono quelle che si usavano negli anni 90 per cui le vedevi addosso a queste persone inevitabilmente un po' strette perché ognuno poi negli anni piglia su un po' di chili e tra lì e le scarpe non proprio di ultima generazione capivi che era una persona che si stava travestendo da runner e andava a correre purtroppo ci sono stati come hai ricordato tu degli episodi piuttosto gravi e a me ha ricordato una situazione analoga anche se non così grave ricorderai forse che qualche anno fa c'era in un inverno già difficile come questo ma molto più freddo il problema delle valanghe e delle slavine che venivano giù una dopo l'altra e improvvisamente gli sciatori di skate gli sciatori di snowboard erano considerati gli assassini con i loro fuori pista come se fosse possibile che una tavola tagliasse una montagna però io mi ricordo che c'era anche lì una caccia alle streghe molto più limitata perché gli episodi erano più piccoli ma c'era già nel meccanismo delle persone il diverso da accusare come colpevole di tutto purtroppo adesso questa situazione è un po' frequente e inciderà all'inizio sulla difficoltà di ritorno alla normalità ripeto ho però fiducia che i toni si smorfino nel momento in cui chi ha sentito il bisogno di chiamare i vigili perché c'è uno che corre potendo uscire si calme un po' perché questa poi è la base una cosa interessante soprattutto da me che sono un pochettino in qualche maniera al centro del problema ma anche uno spettatore è come i paesi si stanno comportando in maniera totalmente diversa ti faccio un esempio ho letto un articolo di penso proprio stamattina tra l'altro infatti me lo sono segnato per parlarne oggi che a Brighton che è praticamente nel sud d'Inghilterra vicino all'oceano al mare hanno chiuso le strade principali per far sì che ci sia più posto per chi fa attività fisica rispetto a una situazione comunque di una città come quella di Brighton dove sicuramente c'è meno verde perché c'è il mare e poi in realtà c'è poco altro attorno e quindi c'è veramente poca possibilità per chi vuole correre a parte il lungo mare e loro addirittura hanno chiuso proprio le strade principali perché tanto non occorre andare in giro in macchina perché bisogna stare a casa per dare la possibilità a chi invece deve fare attività fisica di avere più spazio per poterlo fare in sicurezza mettendo al primo posto ovviamente l'importanza dell'attività fisica perché loro ci continuano a dire in televisione non uscite non fate questo non fate quest'altro l'unica cosa che dovete fare è comunque mantenervi in forma perché se vogliamo battere questo virus dobbiamo avere delle difese immunitarie adeguate e stanno chiuse in casa con la depressione e con tutti i problemi che già abbiamo sicuramente non ci rafforziamo a livello fisico questo è perlomeno quello che penso io quindi proprio modi totalmente diversi Parigi per esempio ho letto che avevano testato degli orari diversi per far sì che la gente possa andare a correre al mattino presto o al pomeriggio è stato un flop perché poi ovviamente tutti si sono buttati sulle strade della Senna alle 6 ovviamente non è stato un test intelligente però quantomeno hanno capito l'importanza del movimento quantomeno adesso non parliamo neanche di running sto parlando proprio dell'importanza di stare bene con se stessi perché altrimenti veramente siamo in carcere ci hanno veramente tolto la prima libertà è bello capire un pochettino come ogni paese si prende le sue decisioni e poi ogni tanto qualcuno mi diceva vabbè tu sei in UK là siete pieni di morti e di infettati è vero sicuramente hanno fatto dei grossi errori soprattutto di valutazione all'inizio però sicuramente gli infetti in UK non sono arrivati attraverso chi è fuori ma perché ovviamente hanno preso la decisione di chiudere Londra prima di tutto e poi tutto il resto veramente troppo tardi noi come agenzia ci siamo chiusi in casa con un paio di settimane d'anticipo rispetto al governo perché stavamo vedendo quello che succedeva in Italia e in Spagna è un po' triste tutta questa situazione sì è un po' triste anche perché è un po' lasciata al suo divenire l'episodio di Brighton lo trovo molto interessante mi sa che diventerà un mio spunto prossimamente ti ringrazio perché ragionando anche su quello che dicevi prima in realtà qui in Italia stiamo facendo i conti con due cose che non sono state fatte o che si è lasciato che smettessero di essere perdonate l'italiano non preciso la prima inevitabilmente è la struttura sanitaria negli anni sono stati chiusi tanti posti di pronto soccorso dei paesi piccoli che oggi magari avrebbero dato una mano avrebbero limitato la mobilità delle persone sofferenti meno importante ma ugualmente si sente rispetto ad esempio a Londra il fatto che questa grande città non abbia in proporzione i parchi e i posti in cui passami il termine lasciare sfogare chi ha bisogno usiamo proprio il più basso dei livelli perché sicuramente anche questo avrebbe aiutato a non creare quel clima di esasperazione del quale stavamo parlando questo sicuramente è un limite di queste città nonostante anche Milano abbia affrontato una modernità progressiva negli ultimi anni a seguito dell'Expo ma questa situazione dei parchi che non è nemmeno lontanamente paragonabile a Londra si sente morio sì sì assolutamente quello è uno dei problemi diciamo però appunto scusami velocemente io sono rimasto stupito all'inizio di fronte alla caccia runner perché venivo da una situazione diversa però ugualmente drammatica che era quella del terremoto del 2012 io abito a Milano spiego chi ci ascolta che ho una provenienza dalla pianura padana da Bologna dove per fortuna il terremoto è stato solo al confine ma lì vicino tantissime persone tra Modena Carpi e altri posti hanno la vita completamente cambiata ebbene proprio negli giorni scorsi un lettore mi ricordava che durante l'estate passata in tenda a Carpi con la città praticamente a terra completamente diceva noi podisti non volevamo andare a correre perché eravamo un po' in imbarazzo di fronte ai nostri vicini di tenda che magari avevano avuto anche dei lutti in famiglia a causa del terremoto oltre ad aver perso la casa e il lavoro e paradossalmente più di una volta è capitato che un vicino di tenda in un corridore abbia detto senti fai una cosa vai a correre almeno qualcuno farà qualcosa di normale almeno mi sembrerà di essere a casa perché poi i meccanismi psicologici bisogna conoscerli io non li conosco mi fido molto di Trabucchi che è un mio collaboratore però non sempre si scatenano nella stessa maniera spesso si scatenano al contrario sì sì è assolutamente vero un'altra cosa che volevo dire è la divisione invece che c'è tra i runners che sto notando perché non è solo chi non è un runner o chi di solito non fa attività sportiva che si mette contro chi esce fuori e cerca di avere quel momento di libertà ma quello che mi rattrissa di più è vedere proprio come si è divisa in due la runner e runner che si mettono da una parte o dall'altra chi dice tu non devi assolutamente correre perché rischi di uccidere qualcuno e invece vogliamo uscire lasciateci la nostra libertà e questo l'ho visto anch'io lo vedo anche sul canale youtube per fortuna non ho tanti hater però qualcuno ogni tanto me la fa pagare ho pubblicato un video dove dove ho fatto le scale un challenge praticamente mille metri di dislivello facendo le scale e ho avuto commenti non tantissimi in realtà però sai 5 o 6 che sono andati giù pesanti dicono ah tu in questo momento stai uccidendo qualcuno perché potresti essere infetto quando nonostante io avessi messo nella descrizione del video il fatto che ho usato delle scale antincendio quindi non di servizio ma delle scale appunto antincendio abbiamo due scale qua e più l'ascensore dove praticamente non passa nessuno talmente tanto che sono sporche c'è una puzza allucinante e tra l'altro un caldo folle perché è una vetrata e sai qua in inghilterra abbiamo le scale un po' l'americana che sono fuori dal palazzo praticamente quindi mi sono allenato su quelle scale lì pensate a chi potesse dare fastidio nonostante ciò ho un sacco di runners che mi seguono dicono ah non approvo metto dislike eccetera anche questo è particolare sì è abbastanza tipico è una comunità molto molto numerosa ormai per cui si porta dentro la corsa quelle che sono le nostre divisioni di pensiero nella vita e quindi è capitato adesso ma ti dico l'avevo già toccato con mano in un tema completamente diverso che sono i nuovi italiani noi abbiamo dei meravigliosi atleti con storie bellissime che sono diventati italiani dopo essere nati prevalentemente in Africa pensa solo ai Job Fagnel Geberiwet che è il nuovo primatista italiano di maratona o al grandissimo Iema Krippa e in passato anche a me è capitato in post secondo me giustamente celebrativi della bravura di questi ragazzi di trovarmi qualcuno che diceva ma questi non sono italiani ma perché non sono rimasti a casa loro cosa c'entrano eccetera è perché siamo una comunità talmente grande che siamo popolo prima ancora che runner e quindi abbiamo queste divisioni che ogni tanto fanno male e adesso si inizia finalmente a parlare appunto del 2 maggio qualche regione sta riaprendo la possibilità appunto uscire e fare un po' di attività fisica c'è però un'altra cosa che mi piace un po' poco e che è quella della cosiddetta mascherina da indossare anche per chi appunto fa allenamenti intensi come la corsa sembra che potrebbe diventare legge che per correre bisognerà indossare la mascherina che tutti quelli che corrono sanno benissimo che praticamente vuol dire ridurre drasticamente la capacità di ossigenazione del sangue quasi simulando un allenamento in montagna tra l'altro ci sono atleti che si allenano proprio con questa metodologia per simulare appunto l'altura è vero cosa ne pensi tu di questa cosa la vedo difficilmente praticabile si finirà all'italiana scusate per uscire con la mascherina sotto al mento e se vedo un vigile me la metto perché in effetti tra l'altro anche alcuni amici che mi stanno dando una mano a capire c'è proprio una difficoltà come dicevi tu è un conto sono quelli che lo fanno apposta come potenziamento è vero ma si tratta già di atleti fortemente preparati noi mi ci metto anch'io anzi mi metto come primo corridore ormai da voglia di andare a farmi compagnia con la corsa si troverà questa modalità piuttosto difficile ho un ricordo di un grande atleta con la mascherina che era Martin Lell che ha vinto tre volte New York e tre volte la tua Londra lui lo vedi con una mascherina un po' più particolare di quelle che usiamo noi perché un centro di ricerche che era la scuola superiore di Macolini era andata in Kenya a monitorare alcuni atleti per una loro teoria non sto a farla lunga comunque si trattava di capire se si poteva trovare nello scambio gassoso anidride carbonica ossigeno una fondamentale differenza tra noi e gli atleti keniani vi spoilerò il finale non l'hanno trovata però vedevo che anche lui che era un atleta straordinario in quel periodo faceva una fatica enorme a fare dei ritmi molto lenti pensiamo a noi che fatica possiamo fare insomma sì secondo me è estremamente complesso solo immaginarlo è vero che ci sono tante aziende la sportiva mi sembra che abbia fatto una mascherina fatta apposta per la sportiva ne ha fatta una New Balance per adesso solo per il mercato americano ne ha fatto un'altra in genere queste aziende stanno un po' giustamente facendo comunicazione attraverso la collaborazione dell'emergenza il loro limite inevitabile è che lo fanno rapportati al territorio perché adesso diventa faticoso spostare mascherine io conosco un bravissimo fotografo che si chiama Piero Giacomelli che ha una sua onlus che si chiama regale di un sorriso e sta praticamente il suo meccanismo è lui fa le foto alle gare con le foto che vende fa charity e adesso ha concentrato tutto sulle mascherine ma sta facendo una fatica folle a farsele arrivare proprio perché da noi purtroppo i trasporti e le consegne sono molto lente e molto difficoltose però è vero che alcune aziende la sportiva come ricordavi tu è stata veramente la più veloce New Balance è arrivata oggi è arrivata ad esempio la notizia che Wynn che è di Asola sta producendo una mascherina altre hanno provato a farlo anche su altri supporti necessari faccio l'esempio DRA che è un'azienda che fa abbigliamento tecnico per la corsa molto valido avendo il laboratorio in casa ha prodotto camici colari che limitano e controllano lo scambio di sudorazione quindi il passaggio d'aria è stata una piccola rivincita poi chiudo delle aziende italiane perché ormai come sappiamo la produzione del materiale per il running è tutta decentrata nel Far East si lavora soprattutto in Corea del Sud un pochino in Corea del Nord in Vietnam perché il lavoro costa di meno in una situazione come questa con i viaggi bloccati tutto quello che viene prodotto l'essere utile qui ecco che le piccole aziende insomma le aziende che hanno conservato la produzione o parte della produzione in genere quella di eccellenza l'alta qualità soprattutto nel Triveneto diventano di colpo utili possono fare cose nuove utilizzando un modello molto antico che è la reconversione industriale che abbiamo scoperto in un brutto momento che era la seconda guerra mondiale ma è quella che permise negli Stati Uniti di trasformare le fabbriche di lavatrici in fabbriche di aerei di aerei di cannoni e di recuperare terreno e diventare una protagonista quel triste momento adesso c'è finalmente una reconversione industriale positiva però non tutte le aziende running hanno in Italia una coltiva e questo sta un po' caratterizzando la scena chiaro che rallenta un po' di tutto in realtà noi facendo digital marketing abbiamo un po' di clienti ovviamente che producono anche e abbiamo visto anche un'azienda di lingerie non faccio nome per non fare pubblicità che si è messa a fare mascherine così appunto come la sportiva e tante altre aziende insomma che si sono buttate in questo mondo il che è assolutamente logico e aiuta anche il mercato dove assolutamente ce n'è bisogno ti concludo solo per visto che io invece purtroppo i market li ho fatti per far capire che un altro sistema che stanno usando invece le aziende internazionali che hanno sede in Italia è di utilizzare quello che hanno in magazzino l'esempio è quello della Brux che ha dato un bel po' di migliaia di scarpe a gratis a infermieri e personale sanitario che comunque è un aiuto assolutamente sì voglio chiedere a voi che ci state seguendo che cosa ne pensate voi di questa proposta appunto di correre con la mascherina che siamo tutti runner qua siete disposti a correre la mascherina pur di uscire sperando che poi non diventi ovviamente la regola per diversi mesi io sinceramente farei molta fatica devo dire devo dire la verità anche perché sinceramente non ne vedo la necessità è ovvio di nuovo dipende dove si corre se corriamo tutti insieme impacchettati come sardine probabilmente anche la stessa mascherina sarebbe un po' inutile bisogna farlo con logica però sono curioso di sapere a voi che ci state seguendo che cosa ne pensate scrivetelo nella chat così sentiamo anche il vostro parere e poi voglio ringraziare anche chi ha lasciato qualche super chat tipo il Janji grazie mille aiuta a crescere il canale prima di passare alle domande che ce ne sono un po' volevo rimanere su questo su questo argomento parlando del futuro perché oggi sarebbe stata la giornata di Boston probabilmente il terzo lunedì di aprile è la nostra abitudine la maratona più importante al mondo la più storica la più suggestiva io l'ho corsa un paio di volte ed è una delle mie preferite e diciamo che ormai ci stiamo inoltrando verso le gare d'autunno con un settembre ottobre novembre dicembre pieno di maratone e mezza maratone tu che cosa ne pensi pensi che si potrà correre perché questa è una domanda che ci stiamo un pochettino facendo tutti io purtroppo Simone penso di no penso di no e di solito mi piace essere il più oista ma in questo caso penso che sarebbe saggio per quanto molto costoso per i nostri organizzatori pensare tutti al 2021 penso e l'ho anche scritto uscirà tra poco nel numero di maggio che questo debba anche essere il ruolo della federazione di atletica sia a livello mondiale sia a livello italiano c'è stata come ricordavi tu la corsa a spostarsi che ha generato un intasamento soltanto in Italia noi avremo ad esempio tra la metà di settembre e la fine di settembre dovremmo avere Treviso Padova le gare che già c'erano parlando solo di maratone e quindi sarebbe già una situazione caotica e difficile per molti motivi non ultimo il fatto che le nostre manifestazioni come molti amici che ci seguono sanno hanno bisogno di personale di sicurezza quindi protezione civile quindi forze dell'ordine che se tutto va bene in autunno saranno stremati e stanchi tu prima parlavi della rischio depressione di noi che stiamo in casa io immagino cosa sia il rischio depressione di che avrà passato mesi a vedere gente trasportata inutilmente perché non ce la fa a dover inseguire come l'altro giorno quello che è andato in spiaggia a prendere il sole come se fosse un rapinatore cioè penso che siano situazioni che lasceranno il segno in questi operatori e pensare di colpo di impegnarli 6-8 ore una domenica per una maratona non sarebbe facile la stessa situazione la vedo difficile a livello internazionale le grandi major senza senza batter ciglio si sono tutte andate a posizionare ricordavi tu Boston che sarà il 16 di aprile addirittura hanno spostato il Patriots Day oggi a Boston non è Patriots Day che era sempre stata la festa il loro 25 aprile è stato spostato in settembre per farlo con la maratona di Boston questo dà l'idea di quanto importante sia quella gara però da lì a un mese è abbondante a 40 giorni ci saranno tutte le major che tu hai collezionato tranne Tokyo che ha fatto correre solo i top runner io la vedo difficile e vedo purtroppo nella condizione più difficile proprio la più grande maratona di tutte che è la maratona di New York poi se qualcuno vorrà annoierò tutti spiegando perché però secondo me paradossalmente proprio la più grande maratona di tutte è quella che rischia di più di saltare sì magari adesso raccontaci anche perché io sono purtroppo con tantissimo rammarico abbastanza della stessa idea anche se spero sinceramente che accada qualcosa nell'estate che ci metta anch'io per carità nella condizione comunque di gareggiare io avrei dovuto gareggiare a Londra a ottobre e poi dicembre 4 ottobre 4 ottobre e poi anche Valencia a dicembre che è quella più in là probabilmente l'ultima dell'anno che forse è quella che ha un pochettino più di possibilità però anche io penso che ahimè quest'anno sarà veramente dura gareggiare però raccontaci perché secondo te New York è quella più a rischio noto purtroppo il coincidere di nuovo di una situazione che si è già verificata nel 2012 ricorderai che la maratona di New York saltò e saltò in un modo strano c'era stato l'uragano Sandy che aveva danneggiato molto la città e fatto anche delle vittime ma era già passato era arrivato su New York la settimana prima alla fine di ottobre e fino al giovedì prima della gara la gara era di domenica come sempre sul sito della maratona il messaggio era molto chiaro in home page gli aeroporti sono aperti la città è tranquilla venite vi aspettiamo tutti andarono a fare gli iscritti andarono a fare il viaggio si portarono là improvvisamente il venerdì pomeriggio americano da noi era quasi venerdì sera o sabato mattina mi ricordo che mi alzai di corsa per fare una news la maratona annunciò ai tour operator che l'organizzazione che la gara non si sarebbe fatta col tempo si è capito che in realtà non era tanto un problema di strade che non erano ripristinate come era stato fatto credere il sindaco ha deciso di no perché le strade non sono percorribili in realtà c'era già come c'è anche quest'anno la concomitanza con l'elezione del presidente un'elezione che vedeva Obama impegnato alla riconferma e New York era una delle ultime tappe dell'elezione e il vantaggio non era così ampio si confrontarono si seppe probabilmente Obama e Bloomberg sindaco oggi uno dei protagonisti della scena democratica perché i sondaggi dicevano che i new yorkesi che erano in ginocchio non volevano la maratona i new yorkesi che di solito amano la maratona fu deciso al volo e l'allora presidente e poi il nuovo presidente probabilmente ha detto ok la maratona non si fa a quel punto l'ordine era arrivato dall'alto la situazione si ripropone uguale quest'anno ci sarà una città stremata io sto guardando giorno dopo giorno l'occupazione quanti morti ha in particolare New York più ancora che il totale degli stati uniti d'america come arriverà a novembre spero meglio ma di nuovo come dicevo prima per i nostri operatori arriverà stremata e probabilmente con non tanta voglia di vedersi arrivare 50.000 perfetti sconosciuti che non sai che profiliassi hanno cosa è successo nei loro paesi e di nuovo abbiamo l'elezione proprio la stessa domenica credo se non vado errato che l'elezione del presidente si concluderà quella domenica io temo che questa concomitanza già verificata si produca il suo risultato eh caspita vedi un po' di storia aiuta e in effetti pensandoci bene sembra che possa finire proprio così ahimè per tutti gli amici che devono fare premetto che non mi piace dire queste cose ma credo che un po' si capisce no no chiaro è difficile è difficile per tutti soprattutto per perché si è allenato poi infatti c'è una domanda che ti farò tra un po' che ho visto di un nostro amico e comunque sai ho fatto la domanda rispetto alla mascherina e c'è un po' riscito praticamente tutti quanti odiano l'idea giustamente quindi siamo tutti sulla stessa pagina io confesso a loro che la sera della panda marathon in in Cina ho quasi pianto probabilmente perché vedere finalmente qualcosa che accadeva nel paese dove stava partendo tutto con o senza mascherina mi piaceva vedere queste persone che correvano poi quando le modalità che avevano accompagnato quel gesto molto di immagine sono tornato triste è chiaro e adesso resto triste e pensiero che si deve correre con la mascherina però insomma sì sì assolutamente Matteo ci ricorda che è stata appena annullata anche a Bologna anche io ho ricevuto un messaggio un paio di giorni fa e quello sarà quello che sottolinea Matteo lo ritengo importante noi stessi l'abbiamo pubblicata subito sul sito perché è la prima delle grandi manifestazioni italiane autunnale probabilmente sarà l'inizio dell'effetto domino perché una mezza maratona come quella in una città tutto sommato abituata ad ospitarla si decide già adesso di rimandare vuol dire che si stanno già facendo calcoli sulla difficoltà che si avrà la Rantunap era il 13 settembre per cui è comunque un autunno immediato è la parte prima dell'autunno però io temo che sia l'inizio di un effetto domino delle nostre corse autunnali ahimè sì per concludere un po' questa parte qua sto vedendo tantissime gare virtuali soprattutto americane qualche qualche brand inizia a fare la sua gara virtuale poi io seguo un youtuber americano si chiama Seth DeMoor che ha fatto proprio ieri la sua gara virtuale hanno partecipato 2500 persone tra cui io ho fatto la mia garetta da 5 km virtuale che ovviamente non si può neanche considerare gara un allenamento perché tutti noi run sappiamo che correre da sole non è assolutamente la stessa cosa manca l'adrenalina manca il tifo il pubblico e tutte queste cose qua però tu che cosa ne pensi perché immagino nel giornale ne parlate ne parlate un po' e sta diventando un po' una moda probabilmente sarà la moda dell'estate dell'autunno a questo punto se non avremo più gare è probabile parlavo con il titolare di una catena di negozi running in Toscana una realtà molto forte per quanto territoriale e mi raccontava che nel primo mese diciamo di chiusura dei negozi quindi di vendita online lui ha venduto più di mille tra tapis roulant e rulli per bici che sono stati la prima cosa che è finita anche perché sono più facili da gestire in casa rispetto a un tapis roulant è vero sarà una delle modalità che prenderà piede più di quanto non sia accaduto fino adesso anche perché purtroppo a loro volta le palestre saranno tra le ultime cose a ripartire così come le piscine per cui fino adesso il tapire in palestra adesso sta diventando il nostro compagno di avventura posso dire così io sto guardando con molta attenzione queste cose perché è l'ultimo dei problemi non avrei mai voluto vivere questa situazione ma il lockdown mi sta dando modo di conoscere ancora di più gli appassionati ai quali io mi rivolgo e queste modalità dei trade mill che esistevano anche prima ma non prendevano tanto ogni tanto si è provato a fare delle gare trade mill virtuali quando era possibile andare fuori non c'era niente da fare avevi pochissimi riscontri adesso per forza di cose piacciono comunque ho torto collo le frequenti ed è un modo per come le persone si si hai ragione ti do anche una notizia non so se lo sai già ma il record del mondo dei 50 chilometri su tappeto quindi su trade mill è stato abbattuto quest'anno solo e siamo solo ad aprile quattro volte mamma mia non era mai accaduto il record del mondo dei 50 chilometri il vecchio record italiano di Intini sui 100 chilometri che è stato fatto a Reggio Emilia con lui che faceva il tapirulan nell'expo della maratona ma lui è un fachiro e questo per per appunto giustificare quello che dicevi tu di quanto tutti si stanno buttando su questa cosa io in realtà mi alleno sul tappeto da sempre perché lo trovo uno strumento favoloso soprattutto per chi abita come me in un'zona piovose anche se in realtà da quando è iniziato il lockdown guardo fuori ma praticamente c'è stato sole per tutto il mese ma è successo Londra sarà un caso però è assolutamente assolutamente vero quattro record mondo sul tappeto 50 chilometri vuol dire che che appunto la gente non ne può più di stare a casa secondo me questo è è sicuramente la conclusione più normale e poi un'altra cosa ragazzi mi rivolgo a voi faremo una gara virtuale su esco a correre da un po' che la stavo la stavo meditando non so ancora la data sarà ovviamente quando in Italia sarà possibile correre quindi penso verso maggio giugno però voglio organizzare la prima gara virtuale di esco a correre su diverse distanze probabilmente partendo dai 5 chilometri fino ad arrivare alla maratona chi vorrà io sicuramente non gara girò sulla maratona da solo perché non mi piace correre così tanto in solitudine però sicuramente gara un pochettino più breve e soprattutto serve anche come allenamento secondo me che è sempre utile assolutamente a parte i tanti complimenti che vedo nella chat per la rivista correre per il lavoro che state facendo grazie grazie a nome di tutti perché noi siamo una grande squadra merita sì io ho conosciuto parte del team grande insomma tu li hai visti siamo pochi come redazione però abbiamo un universo di collaboratori che contribuiscono molto alla nostra qualità quindi è un grazie collettivo fate dei contenuti bellissimi avete un fotografo eccezionale che ho conosciuto di persona veramente simpatica grande Michele che lo salutiamo e poi c'è qualche domanda rivolta a te partendo dal record italiano di Faniel che è stato fatto a Siviglia due ore e sette in maratona e tu che cosa ne pensi mi chiede Daniele Daniele a Daniele allora penso sono stato contento perché conosco la storia di Faniel ma sono stato contento per due persone per lui e per Ruggero Pertile che è stato un grande maratoneta con l'unico difetto che hanno molte persone di essere io li chiamo categoria i sottovoce perché Ruggero ha ottenuto dei risultati straordinari è stato quarto a un mondiale quarto a un europeo decimo alle olimpiadi nella tua Londra ha fatto due nove cinquanta tre è un maratoneta straordinario che ha sempre affrontato con grande umiltà la sua condizione di atleta tra l'altro a parte l'ultimo periodo della sua vita è sempre stato un atleta lavoratore perché lavorava in un supermercato e grazie ad una società forte che era la sua bassa industria padova è riuscito comunque a ottenere grandi risultati non è un atleta militare è diventato professionista solo alla fine la storia di Job è la storia che l'hanno aiutato sia come allenatore sia come sostegno penso alla maratona di Venezia che l'ha in qualche modo sponsorizzato è riuscito finalmente a trovare le condizioni per esprimere questo potenziale 2,7 e 19 che significa solo 3 secondi in meno del 2,7 e 22 fatto da Baldini proprio a casa tua e questo è l'aspetto negativo ovvero che siamo passati da un record fatto nel 2007 quindi 2017 nel passato di tempo 3 secondi con così tanto tempo vuol dire che la maratona italiana non sta benissimo ecco questo è un po' quello che mi sento di dire però a Monte c'è la mia contentezza per lui e per Ruggero Pertini sì è vero purtroppo non stiamo migliorando più di tanto in Italia nonostante invece la distanza sta vedendo un miglioramento non ne parliamo un miglioramento dietro l'altro e soprattutto con le calzature di oggi che io sono sempre più convinto anche perché le ho testate le ho provate ho fatto tutti i miei personali quest'anno quasi sulle calzature moderne di cui ormai tutti parlano sicuramente aiuta probabilmente non a tutti perché dipende anche dalla postura tecnica di corsa probabilmente qualcuno potrebbe addirittura venirne penalizzato però sono convinto che i professionisti hanno quasi tutti una tecnica di corsa sufficientemente buona per poter sfruttare delle calzature come quelle che abbiamo oggi e qua mi collego alla domanda di Lorenzo che ci chiede che cosa ne pensi tu Daniele del fatto che anche i professionisti sono stati fermati da questa pandemia consigliano che sempre su questo canale proprio settimana scorsa abbiamo intervistato in magnifico Francesco Puppi campione di corsa in montagna a lunghe distanze vice campione grandissimo atleta grandissimo atleta del mondo quest'anno tra l'altro ho avuto il piacere di poterlo vedere crescere e di allenarmi con lui perché eravamo insieme squadra stesso allenatore e anche lui ci diceva appunto che quest'anno sta un po' abbandonando tutte le idee che è un peccato per un professionista del suo calibro che stava tra l'altro molto bene a parte un piccolo acciacco ma effettivamente questo questo virus sta mettendo capo anche i professionisti guardando addirittura olimpiadi che sono state posticipate di un anno che ne pensi? penso e spero di non annoiare per rispondere a Lorenzo correttamente ancora una volta fuggo dall'unica spiegazione è una situazione secondo me nella quale vanno elencati un po' di elementi che possono essere stati causa di tutto questo sicuramente come hai appena detto tu quando alla fine le olimpiadi i giochi olimpici sono stati spostati esattamente di un anno saranno gli stessi giorni dal 24 luglio al 6 di agosto scusate dal 6 al 24 poi le parolimpiadi negli stessi giorni fino al 5 settembre è stato dato il colpo di grazia a quel punto per gli atleti professionisti è cominciata ad arrivare la solitudine perché la Dossena si è trovata di nuovo ad avere persone che la contestavano la Giovanna Epis che ha un carattere ho spiegato che anche lei era un carabiniere a quel punto la situazione per quel problema psicologico che dicevamo prima diventava difficile da sostenere fino a quando dici questo è il mio mestiere io devo preparare i giochi olimpici tu stesso ti dai una giustificazione quando resti privo di quello ti senti molto più solo il commissario tecnico Antonio Latore ha aggiunto un elemento che non era sbagliato approfitto per chiedere agli atleti di punta di riposarsi perché come succedeva sempre soprattutto nella stagione olimpica questi atleti erano già esasperati in questo momento faccio un esempio che non è del running faccio l'esempio di Fabri questo meraviglioso atleta del getto del peso giovane che sta tornando riportando quella specialità a grandissimi livelli ha gareggiato tutto l'inverno in modo incredibile per cui aveva bisogno di fermarsi per non farsi male ma nella stessa situazione si trovavano parecchi atleti in più c'era anche da gestire delle situazioni singole e difficili nella nazionale azzurra del mezzofondo c'è un atleta giovane molto brava si chiama Marta Zenoni che è di Bergamo Bergamo avete visto tutti che situazione drammatica si trovava con quale responsabilità un allenatore le dice continuiamo gli allenamenti in una situazione in cui vivi in una città come quella dove di notte i mesi militari purtroppo portano via le persone che se ne sono andate e io penso non ho avuto ancora occasione chiedo scusa di verificarlo con i vari atleti ma che ci sia anche un altro elemento di imbarazzo che ha portato gli atleti a fermarsi molti degli atleti forti l'abbiamo detto prima sono atleti militari allora io mi metto nei panni ad esempio di un crippa già ricordato che è un poliziotto è vero che loro non vivono in caserma ma con quale forza con quale spirito tu stai a casa tua e vai a correre quando i tuoi colleghi fanno i turni di 12 ore e rischiano quotidianamente contagio sono tanti gli elementi che portano questi atleti ad aver interrotto la preparazione sicuramente hanno un grande disagio ed è un rischio Simone perché la condizione fisica più è alta e più difficile da ricostruire in un articolo di Orlando Pizzolato del numero di marzo lui diceva noi amatori anche lui si considera un amatore non tocchiamo mai il 100% della nostra qualità però abbiamo il vantaggio che quando arriviamo all'85% quell'85% può durare dei mesi mentre il top runner arriva a 100% ma subito deve scaricare loro si trovano in questa condizione difficile è vero che i fisiologi ci confermano ed è un altro argomento che sta venendo fuori spesso che il nostro corpo ha memoria per nostra fortuna ci accorgeremo loro ci assicurano ricominciando che ci vorrà meno di quello che pensiamo a tornare alle condizioni in cui eravamo prima però ripeto per l'alto livello è particolarmente difficile aggiungo solo e chiudo che io ho una particolare preoccupazione per gli atleti forti giovani gli under 18 quelli che noi chiamiamo categorie allievi 16-17 anni loro che vanno a scuola loro che adesso hanno già una vita difficile perché devono studiare da casa quanti di questi non troveranno più la voglia o la motivazione di tornare a correre tra una decina di anni forse dovremo quando andiamo a fare i nostri calcoli statistici appunto il record che è stato aggiornato solo dopo tanti anni queste cose rischeremo di dover fare i conti con una generazione mancata sono delle bellissime riflessioni che ci devono ci devono far pensare è vero ho letto anche di atleti professionisti che dicevano che hanno provato anche ad allenarsi ma sono venuti insultati insomma molti non è facile ti aggiungo un secondo ti chiedo scusa io faccio il tifo per Valeria Stranio che prima dell'epidemia era lì che diceva ho trovato tutte le energie possibili per cercare di fare ancora un'edizione dei giochi olimpici quest'altro anno Valeria avrà 44 anni e ha detto ci provo comunque non possiamo che fare il tifo per persone così come per Catrin Bertone che di anni ne ha 48 e che è lì per poter andare a un'Olimpiada ugualmente grandissimi atleti che lo meritano assolutamente ragazzi come sapete io ho un bambino piccolo che quindi tra veramente pochissimo dobbiamo chiudere abbiamo promesso un'ora poi ovviamente non possiamo trattenere Daniele per troppissimo tempo provo a fare scorrere velocemente ancora qualche domanda ce ne sono purtroppo tante purtroppo per fortuna volevo dire che c'è stato parecchio interesse però non riusciremo a rispondere tutti ecco questa è una è una bellissima domanda sempre di Daniele che ci chiede ovviamente rivolta a te da dove nasce la tua passione per il mondo del running ho praticato corsa a 13 anni ho cominciato era il 1975 e niente mi sono trovato bene tra l'altro ho avuto la fortuna di essere subito in un ambiente a Bologna era aperto il centro sportivo carabinieri anche per i piccoletti mocciosi che giravano attorno al quartiere e ho cominciato così ho avuto la fortuna di vedere un giovane Lucio Gigliotti che allenava Carlo Grippo per cui ho cominciato subito alla sera andare a prendere il giornale a mio padre ritagliare le pochissime notizie dei record del mondo e da lì è cominciata sia la passione per la corsa sia la passione per questo mestiere bello e questo si collega benissimo all'ultima domanda che io faccio a tutti gli ospiti che si siedono in questo studio virtuale riesco a correre e la domanda è che cos'è per te la corsa? è il modo che ho di parlare con me stesso ed è un modo che mi aiuta a comunicare con le persone è una forma di comunicazione alla fine faticosa però estremamente naturale io devo dire che una cosa che mi ha sorpreso sono quasi 15 anni che lavoro a correre mi sono un po' fermato rispetto al ritmo che aveva tenuto prima la mia vita lavorativa ma aspettavo quello che mi è accaduto sia in positivo sia nelle difficoltà quello che mi ha sorpreso è stato quante volte un lettore in qualche modo è diventato un mio amico e questo mi fa dire che non ho ancora capito molto non ho ancora capito tutto di quello che può fare la corsa bellissima chiedo scusa per il telefono che mi sono dimenticato di mettere nel silenziatore non ti preoccupare questa è una live su youtube qua tutte queste cose sono assolutamente normali e mi sono sorpreso che non è ancora entrato Leonardo urlando e sfasciando tutto prima che può capitare tanto chi mi segue è abituato a queste cose e che dire è stata veramente un'ora che è passata velocemente di solito vuol dire che insomma ci siamo trovati bene ti voglio ringraziare per averci dedicato il tuo tempo grazie a te grazie a voi quelli che ci hanno seguito impegnato se si può se vuoi girarmi le domande io sono molto lento a rispondere youtube facebook mi dice che la pagina di corre risponde mediamente in due giorni ma è perché io preferisco prima pensare che gli piacciono facebook faccio così se le persone hanno pazienza mi impegno a rispondere assolutamente grazie mille per la disponibilità metterò nella descrizione ovviamente tutti i link e ti ringrazio veramente di cuore è stata è stata una bella ora ragazzi grazie mille per averci seguito e ci vediamo ci vediamo alla prossima come sapete quasi pubblica abbastanza frequentemente in questo periodo quindi ci vedremo sicuramente con nuove live e nuovi video a presto a presto